allora questo è scusate ma il fiatone e la tosse ma sono messo a correre gli ultimi dieci minuti perché è una corsa contro il tempo visto che questa montagna qui che vedete è il Fitz Roy sta venendo mangiato da una nuvola saluto alla famiglia Manzi che ieri ha fatto delle cose abbastanza importanti il problema è che mi sto perdendo un sacco di puntate televisive di casa Manzi però insomma recupererò questo è il panorama che si vede dal Mirador Los Condores corre nei montagna ci serviva la musica di Rocky 4 entra in allenamento dei Rocky 4 in Russia che scala quella montagna però non ci sono impronte digitali impronte dei piedi diciamo una forza con l'elicottero eccetera 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 Fitz Roy medica montagna di 3500 metri che prima avevamo solo intuito prima stavamo abbiamo costeggiato questa montagna qua e primo piano ho beccato l'unico momento della giornata in cui non tira vento questa analisi persona eh il problema sono le nuvole che il cerro torre non si vede niente praticamente ma basta che c'è stato il Fitz Roy guardate qua questo non è questo il Fitz Roy non è questo il Fitz Roy si vede perché vabbè no adesso mazza non si vede niente praticamente è il Pandoro quella forma di Pandoro ma guardate quanto è grande è il Chalten questo è tutto è il Chalten adesso è tutto chiuso